Torna a casa riconsegnato al comune dal nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri di Napoli il dipinto dell'artista Gennaro Villani che fu trafugato nel novembre 2010 dai uffici della segreteria del sindaco di Napoli. Non sappiamo l'autore del furto ma ecco si tratta proprio di un furto a danno ahimè del comune di Napoli risalente al dicembre del 2010. L'opera poi ha intrapreso quelli che sono i soliti canali di compravendita illegale non per cui è stato alla fine rintracciato grazie alla nostra sezione elaborazione dati del comando di Roma viene restituita al primo cittadino e quindi è come se noi la restituissimo a tutta la comunità. Messa all'incanto da un privato attraverso il sito web di una nota casa d'aste romana l'opera è stata individuata e recuperata con l'ausilio della banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. L'archivio è gestito dal nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri e contiene circa 7 milioni di eventi ed oltre 3 milioni di opere da ricercare. La nostra banca dati ovviamente è fondamentale nel nostro lavoro tant'è che le immagini poi che noi andiamo a riscontrare derivano sempre unicamente dalla banca dati. Dall'altra parte bisogna trovare un supporto, un riscontro e in questo caso non è stato facile perché pensate di quest'opera non vi erano immagini o fotografie che la ritraessero in qualche modo. C'è insomma sempre attenzione sul nostro patrimonio, grande lavoro da parte dell'arma dei carabinieri e questo è uno sprone che arriva a noi anche per lavorare ancora di più anche sulla tutela del patrimonio mobile del comune di Napoli che ha tante opere pittoriche molto interessanti ed è anche questa l'occasione per avviare un percorso di valorizzazione. Questa la rimettiamo nel posto originale però poi dopo valuteremo, ci sono tante opere al comune ma non solo anche nei nostri depositi che meritano una collocazione migliore e una maggiore capacità di fruizione da parte dei cittadini. Il dipinto raffigurante paesaggio con chiesa è stato riconsegnato al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi anche alla presenza del primo cittadino di Agero, la Tommaso Naclerio. È un'opera a cui noi siamo legati da un senso di appartenenza non solo territoriale ma soprattutto sentimentale perché l'oggetto del quadro descrive la bellissima piazza di Bomerano, piazza Paolo Capasso che è la porta d'ingresso del famoso Sentiero degli Dei tra le dieci passeggiate più belle al mondo e che è la punta di diamante del nostro circuito di sentieri che dall'alta costiera amalfitana di Agero la raggiungono i punti di interesse storico-culturale più della bassa costiera.